Ciao a tutti ragazze, sono tornata con un nuovo video haul, ora però penso che per un po' smetterò di comprare ed è il video haul dell'Elf, ho fatto questo ordine ormai 10-15 giorni fa, questa diciamo un po' la pecca dell'Elf che ci metto un pochino ad arrivare, però finalmente è arrivato con il corriere SDA, il pacchettino più piccolino del solito era questo qui, piccolino, e ora vi mostro cosa c'è all'interno, inizio dicendo che secondo me i prodotti di punta dell'Elf sono assolutamente i pennelli, ne ho già qualcuno, ne ho uno per il correttore, un mini kabuki e due pennelli labbra mi ci trovo da dio, più li lavo più sono belli, non perdono sedole, non perdono colore, sono morbidissimi e ho preso le cose che ora vi faccio vedere, con lo sconto, aspetta che cerco anche la cattura che non trovo, l'ho presa comunque, con lo sconto del 51%, quindi erano veramente convenienti e non mi sono voluta far scappare nulla e iniziamo appunto dai pennelli, che ne ho presi davvero parecchi allora, i pennelli tutti quanti si presentano in questo astuccino che già comunque trovo molto carino infatti non penso di buttare, che li trovo utili anche specialmente se bisogna viaggiare, bisogna portare appresso ah, il primo pennello che vi mostro è lo Small Stipple Brush ed è questo pennellino piccolo, un duo fibre, molto piccolino per farvelo vedere in confronto con un altro duo fibre che ho, questo è da viso questo diciamo sarebbe perfetto, infatti l'ho preso più che altro per quello per applicare il correttore liquido sotto gli occhi o anche per il blush, comunque prodotti più che altro cremosi e è morbidissimo non è molto 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 fitto ma comunque poi quando li provaravi, però se davvero 20 mi è arrivato stamattina, ancora non l'ho provato ed è appunto questo qui altro pennello è sempre tutti si presentano così, come vi ho detto questo ha anche la custodia all'interno ha anche la plastichina intorno ed è il powder brush ed è diciamo un flat bookie molto molto ampio e molto molto fitto, come vedete è morbidissimo e visto che come flat bookie ho messo solamente quello di neve che lo uso esclusivamente per il fondo minerale volevo provare ad applicare anche la cipria minerale e il blush e con un flat bookie, però senza star sempre a sporcare quello quindi insomma l'ho preso anche perché tutti i pennelli li ho pagati intorno ai 4 euro se fate più o meno il 50% direi che nemmeno dai negozi dei cinesi li troviamo insomma e sono morbidissimi altro pennello è un pennello occhi un semplicissimo pennello occhi che non fa mai male averne di più ed è l'elf I show tea brush ed è diciamo quello classico a lingua di gatto un pochino più ampio degli altri devo dire qui sopra e per l'applicazione dell'ombretto è morbidissimo anche questo e mi piace molto anche come sono comunque qui lucidi, qui opachi cioè anche come si presentano ultimo pennello è un altro pennello viso quello sto levando dalla scatolina ed è anche questo si presenta anche con la plastichina ed è un pennello semplicissimo da blush infatti si chiama blush brush e diciamo che rispetto agli altri pennelli da blush che ho che sono uno è questo qui semplice e l'altro è questo così angolato questo l'ho preso a Cosmoproof da un rivenditore asiatico e questo invece è di Kiko questo qui della Elf non so se si nota molto la differenza è più affusolato in punta più a forma di petalo ecco invece questo è il classico obliquo questo è semplicissimo cioè da blush questo potrebbe essere un po' da tutto insomma solo perché è più piccolino da blush e invece questo qua è più a forma di petalo che è questo morbido 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 poi oltre i pennelli ho preso che avevo già provato una volta le spugnettine in lattice che uso tanto per ritocchi e ritocchini vari sono le blending wedges le spugnettine appunto in lattice dentro ce ne sono otto pezzi e ne ho prese due perché se non sbaglio venivano intorno hanno iniziato così improvvisamente i lavori e se non sbaglio venivano intorno a 2 euro quindi col 51% era più che ottimo e poi due prodottini di make up uno è un rossetto che ho già scartato e ce l'ho addosso adesso e si presentava così ed è lipstick è il numero 7711 sociable ed è bellissimo ha il packaging appare semplicissimo così qui c'è scritto elf e sembrerebbe un semplice rosso ma in realtà è uguale al colore del mio smalto sta cosa la sto notando da appena l'ho preso e ha un profumo buonissimo di amarena e probabilmente si lo definirei proprio un colore amarena color ciliegia amarena ed è questo qui rimane un po' così lucido come rimane a me sulle labbra adesso e è davvero bello soprattutto secondo me per questa estate poi ve l'ho già detto in qualche altro video con i rossetti elf mi trovo davvero bene soprattutto per quanto vengono questo se non sbaglio veniva nemmeno 2 euro o 2,20 non mi ricordo magari vi lascio sotto i prezzi e è davvero davvero bello ultimo prodottino è un blush di blush elf ne sento sempre parlare benissimo io ne avevo uno in crema che non è proprio tra i miei preferiti e ho provato uno di questi qui diciamo un polvere normale è il twinkle pink è carinissimo ha intanto anche lo specchiettino sopra ed è questo bellissimo rosa con all'interno tantissimi riflessi dorati e mi ricorda tantissimo un blush che ho svocciato della The Balm ovviamente era più scrivente anche perché questo effettivamente non è molto pigmentato vedete è proprio un rosa chiaro però pur non essendo pigmentato anche se lo metto qui sulla mano che si vede pochissimo però si vedono tutti i riflessi bellissimi che fa quindi secondo me è un blush soprattutto adatto adesso per l'estate che con la bronzatura insomma non andiamo a cercare chissà che colore ma magari qualche particolarità come riflessi e cose varie e a me questo piace davvero tanto certo non penso lo sfrutterò molto in inverno io che sono bianca cadaverica ma non lo so comunque mi piace tantissimo niente queste sono le cosine che ho preso e fatemi sapere anche voi se avete comprato qualcosina dalla Elf e quali sono i vostri prodotti preferiti ci vediamo al prossimo video ciao